la Bibbia critica estremamente la schiavitù in numerosi passaggi che ovviamente non ci dice vabbè questa dura due minuti quindi ce la facciamo io a questo punto il video lo chiudo con questa sfida morte bianca io ti sfido ti sfido a citarne uno un passaggio precisiamo però i criteri della sfida un passaggio che però non è che prima ti ubriachi poi triti fine un trattato di teologia e te lo sniffi quindi cominci ad avere delle allucinazioni e in quelle allucinazioni c'è un versetto biblico in cui parla male della schiavitù no voglio un verso dove la Bibbia nomina la schiavitù e dice criticandola che è qualcosa che non va fatta non qualcosa che non è bello subire non qualcosa che non devi fare agli ebrei no qualcosa che in assoluto come istituzione è immorale e non va fatta questo è il versetto che dovresti trovare ipoteticamente nella Bibbia spoiler non esiste ok qui sono